Ci troviamo all'interno della mostra della battaglia di Solferino San Martino in compagnia dell'assessore Emanuele Giustacchini, assessore della cultura, che ha voluto questa mostra, ha voluto ospitare questa mostra. Ecco, quadri meravigliosi, oggi sono momenti di chiusura, quindi tranquilli senza il movimento della gente. Assessore, è bello essere qui dentro. È bello, è emozionante. Abbiamo ancora due settimane perché fino al 13 settembre questa mostra prosegue. È stata una mostra che, come dicevamo, è divisa in sette sezioni con 20 dipinti che provengono dai principali musei di risorgimento italiani ed europei. Inizia proprio con questo quadro, con l'arrivo trionfale l'8 giugno del 59 di Vittorio Emanuele II di Napoleone III a Milano. E poi prosegue con raffigurati i tre imperatori, appunto Napoleone III, Vittorio Emanuele II e Francesco Giuseppe d'Asburgo. Fu anche una delle ultime battaglie, forse l'ultima battaglia, in cui i tre imperatori combatterono direttamente sul campo di battaglia e si trovarono poco distanti l'uno dall'altro. Però, come dicevamo, abbiamo voluto soprattutto ritrarre i momenti della battaglia, quindi chi la battaglia l'ha fatta veramente, gli eserciti, le scene di scontro e poi il ruolo delle donne. Questo è un quadro che viene dal Museo del Risorgimento di Milano, un quadro straordinario per l'intensità, per la luce, anche per le dimensioni, perché è molto raro che la nostra galleria riesca ad ospitare. Abbiamo superato problemi non facili, anche di trasporto, di assicurazione, per il valore di questi quadri. E questo quadro rappresenta la morte di un bersagliere, rappresenta il dolore di tutte le donne che hanno perso il compagno o il marito durante la battaglia. E poi abbiamo tre quadri, due di quali vengono da Palazzo Pitti, Firenze, e quello centrale proviene dal Museo d'Arte di Arezzo. Ed è un trittico straordinario che per la prima volta viene ricomposto. Sono quadri di Carlo Ademollo che raffigurano Anna Cuminello, una nostra concittadina, che venne uccisa proprio mentre stava portando aiuto ai soldati in battaglia, stava portandogli dell'acqua e ancora una volta ritorna il tema e l'importanza del ruolo delle donne durante la battaglia per i rifornimenti ai soldati, ma soprattutto dopo e in generale il tema del grande contributo che la nostra popolazione sape dare nell'offrire i primi soccorsi alle decine di migliaia di feriti e di mutilati che vi furono sul campo di battaglia. Questo è anche confermato dai testi che abbiamo pubblicato e finanziato in questi mesi. Abbiamo quest'opera provvente insieme ad altre dal Museo di Risorgimento di Vienna, un'opera straordinaria anche per la luce in cui vengono raffigurati dei soldati austriaci. Abbiamo, ripeto, voluto raffigurare anche scene della battaglia e naturalmente il ruolo di chi, magari non è ricordato sui libri di storia, ma di chi la battaglia l'ha combattuta veramente, quindi degli eserciti e dei soldati. L'appuntamento è naturalmente per il 2011. Chiudiamo con piena soddisfazione questa celebrazione del 150esimo. Tra qualche mese saremo già al lavoro per celebrare e per degnamente ricordare i 150 anni dell'Unità d'Italia.